Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra penisola e l'Europa in generale, situazione che come possiamo vedere dalla cartina vedrà un'area di alta pressione abbracciare tutto il nostro stivale e in generale tutto il centro Europa. Come possiamo vedere anche dalla cartina una bassa pressione andrà a sfilare a destra, bassa pressione che nei prossimi giorni, a partire dai primi giorni della prossima settimana porterà ancora un po' di fresco anche sulla nostra Italia. Vediamo ora nel dettaglio cosa accadrà per la giornata di venerdì 22 marzo, giornata che come detto sarà soleggiata per via dell'alta pressione e avrà anche un aumento delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi. Avremo per tutto l'arco della giornata cieli poco o parzialmente nuvolosi con solamente qualche nuvola in più in appennino nelle ore centrali della giornata. Come detto le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi con le minime che si attesteranno fra i 3-5 gradi mentre i valori massimi saranno compresi fra i 15-17 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.